a Marco Damilano perché oggi tra l'altro si riunisce il CDA che deve poi convalidare queste nomine, di solito sono frutto di un accordo, il CDA è espressione dei partiti e non ci sono problemi, però questa volta forse il membro 5 Stelle del Consiglio d'amministrazione riconducibile 5 Stelle potrebbe votare contro, essere la prima volta che anche se diciamo nella sua dimensione solo parlamentare, però insomma forse nemmeno tutto, è il partito più forte che non dà il gradimento al direttore del Tg1. Ma ieri sera si parlava anche di una richiesta al CDA di rinviare le nomine, quindi sì ci sono anche dei movimenti interni al CDA della RAI, ma per uscire dall'interno Viale Mazzini lo diceva già Massimo, la RAI è sempre stata lo specchio dei partiti durante la storia repubblicana ha spesso anticipato delle svolte politiche, perché per la composizione, per i meccanismi con cui viene nominato il Consiglio d'amministrazione, un periodo era in mano al governo, poi arriva la Commissione parlamentare di vigilanza, poi c'è stata una riforma del governo Renzi che ha restituito al governo il potere di nominare l'amministratore delegato, ma il CDA continua a essere espressione dei partiti e tutti i traumi, le crisi, le scosse del sistema politico lì hanno una qualche raffigurazione. Qui il punto è certamente che il cosiddetto partito di maggioranza relativa, mi ha colpito Conte che questa dichiarazione sembrava una reazione antica, sembrava di venire dal passato più remoto della prima repubblica, niente male per un partito che doveva aprire il Parlamento con una scatoletta di tonno, cambiare tutto, adesso siamo alla rivendicazione di una poltrona in nome del manuale Cencerni e poi l'escluso dal manuale dice mi hanno escluso, mi hanno escluso dalle stanze. Questo è come rappresentante attorno all'antico. Ma lo hanno escluso? Sì, però hanno escluso Conte perché Di Maio non è stato per niente escluso. Qui c'è un sub-governo che vede Di Maio da un lato e Giorgetti dall'altro per arrivare pure in casa della Lega, i principali esponenti perché hanno un rapporto diretto con Draghi, partecipano al Consiglio dei Ministri, un ministro mi ha detto che Di Maio nel Consiglio dei Ministri agisce come se fosse un ministro tecnico, parla solo delle questioni strettamente attinenti alla Farnesina e una volta ha fatto un intervento politico sulla riforma della giustizia dove il Movimento 5 Stelle faceva una battaglia molto violenta, allora lì si è sentito di dire che non era d'accordo ma l'ha detto con un garbo, come dire, poi lo devo dire e passiamo ad altro. E anche in questa vicenda probabilmente c'è stata la stessa dinamica. Se ci spostiamo dalla Rai verso il Quirinale è chiaro che lì nel Movimento 5 Stelle c'è un epicentro di un terremoto grosso perché la prima volta, non solo la prima volta che il partito di maggioranza relativa non ha il Tg1, ma è anche la prima volta che il partito di maggioranza relativa non riesce ad avere una politica unitaria sulle questioni più importanti dal governo al Quirinale, dalle istituzioni alla legge elettorale, alla legge di bilancio e questo è un problema perché lì ci sono centinaia di parlamentari senza guida. Profesor Cassetti